È un messaggio all'Europa, noi testardamente continuiamo a rinunciare alle vacanze di qualsiasi genere e forma, vacanze estive, vacanze invernali, noi non facciamo vacanze, la democrazia è una spada che non ha fodero. E quindi ci siamo messi in questa vicenda sfidando l'impossibile perché io invito chiunque vedrà una slabratura, un problema, una critica a perdere 5 minuti e guardare il calendario di questa vicenda italiana, quindi sicuramente potrà perdonarci qualche limite, qualche errore, qualche incompiutezza.